Buonasera, da Stefano Becciolini, Fahrenheit 912, gruppo United Bloggers. Oggi ho saputo che Zuckerberg, fondatore e ideatore di Facebook, nel 2020 varierà il nuovo progetto, che sta già portando avanti probabilmente da qualche anno, di una nuova criptomoneta o valuta parallela, la Libra. Allora, questa notizia mi è stata data da Luca Massimo Climati, editorialista del gruppo e amico. E quando sinceramente mi ha informato su questa notizia, io ho avuto dei problemi a crederla avere. Infatti ho detto, Massimo, non è che è una fake news, magari sai come ne girano tante, e invece non è una fake news. È proprio così. Ho fatto una piccola ricerca, piccola, e ho reputato che le informazioni dal sito delle pubblica.it sono quelle, diciamo, più, non dico attendibili, ma più complete. Ora, non voglio scendere nel dettaglio di che cosa sarà, non perché non lo so, sono molto bene di cosa si tratta, so cos'è una criptovaluta, me ne occupai nel 2015, mi occupai nel 2015 in un editoriale, quando ancora i Bitcoin non li conoscevo nessuno, e avevo messo proprio il dito sulla piaga, dopo qualche anno si era occupata anche la magistratura, dove avevo appunto così palesato l'idea che con i Bitcoin o criptomoneta si potevano effettuare degli scambi, diciamo, non troppo corretti, tipo traffico di droga, armi, prostituzione, finanziamento terrorismo, eccetera. Dopo due anni la magistratura ha fatto indagini e ha scoperto anche dei gruppi che utilizzavano questa criptomoneta per fare questi traffici. Ma il problema non è questo. Non credo che Zuckerberg o questa libra, oddio, non potrà essere utilizzata per questi traffici. Il problema è un altro. Il problema è anche i Bitcoin. I Bitcoin quando sono nati? Sono nati nel 2009. Non si conosce assolutamente il fondatore. Dal rumor si pensa, anzi si dice, che siano stati creati da qualche banca dopo la crisi del Wall Street, l'inizio della crisi devastante economica mondiale partita dagli Stati Uniti d'America, e qualcuno ha creato questa criptomoneta per cercare di avere un piano B o per altri motivi. Ocaro Zuckerberg, fondatore, con circa 3 miliardi di utenti che utilizzano la sua piattaforma, ha iniziato a lavorare su questa criptomoneta. E non solo lui, attenzione, tra i suoi partner, tra quelli che partecipano all'impresa, ci sono colossi come la Visa, come la Mastercard, come Vodafone, Compagnia Telefonica, Eliad, nuova compagnia telefonica, Booking, Uber, eBay, Spotify e tanti altri. Dovrebbero essere in circa 27, però da informazioni acquisite e si dovrebbe arrivare all'inizio del progetto e avere almeno un centinaio di finanziatori. Come funzionerà questa libra? Molto semplicemente sarà una moneta, una valuta criptovaluta che sarà spendibile sui circuiti Facebook, Messenger, Whatsapp. Si trasferiranno dei crediti che potranno essere anche convertiti in euro e viceversa. Ora, quale sarà? Qual è la base? La base per creare questa criptomoneta? Sono dei titoli veri e propri, come dice Zuckerberg, ci saranno dei titoli sicuri che garantiscono l'affidabilità di questa moneta. Criptomoneta, non chiamiamola più moneta. Ora, non sappiamo quali titoli siano, potrebbero essere anche titoli tossici, no? Non so se avete sentito l'ultimo bellissimo editorial di Valerio Malvezzi di qualche giorno fa, dove appunto dichiarava che nel momento in cui i miliardi, miliardi, miliardi di euro tossici, cioè non tossici miliardi, ma i titoli tossici, questi soldi che sono nella pancia della Docian Bank, che provengono da dalla crisi economica e da altre situazioni non molto chiare nel sistema finanziario mondiale, scoppierà questa crisi, probabilmente ci sarà quasi una involuzione del genere umano. Quindi, la Docian Bank sarà, farà parte di questa cordata? Questi titoli entreranno a far parte nel portafoglio Zuckerberg? Sono tutte cose che dovremmo valutare. Quindi, questa notizia, la notizia è una primizia, ancora non sappiamo niente, ma dobbiamo tenerla sotto controllo. Abbiamo l'obbligo di approfondire questa informazione che vi sto dando. Zuckerberg, nel 2020, valerà questa criptomoneta. Altra nota a margine. Chi controllerà questa criptomoneta? Per quale motivo in Italia ci stanno facendo letteralmente neri la Banca Centrale Europea, banca privata, gestita da un ex appartenente, Mario Draghi, anzi appartenente, diciamo, dipendente di grosse agenzie finanziarie, banche mondiali. Ora, chi la controllerà? Noi ci stanno facendo neri con i minibot. Noi non possiamo stampare i minibot come titolo di scambio interno, quindi non può essere spendibile all'estero, ma solo internamente per pagare i debiti dell'amministrazione pubblica. Ci stanno praticamente minacciando che se continuiamo di questo passo ci mandano la Troica e ci riducono peggio della Grecia, quindi sono minacce vere e proprie a 69 milioni di italiani e ci sono dei gonzi che vanno dietro a tutti quelli, questa è una mia opinione, logicamente, ci sono tanti gonzi che vanno dietro a radical chic che dicono che noi dobbiamo rimanere in Europa e i minibot sono una grande fregatura, non vanno assolutamente bene per l'economia perché sono pure illegali e questa è una parte di società che la dice, non dico che sono i comunisti, non c'entra niente, ma una parte di società, quelli che stanno bene, quelli che non hanno bisogno dei minibot probabilmente, però si permette anche la Banca Centrale Europea permetterà a Zuckerberg di poter irrorare il mondo intero con questa nuova valuta che non sappiamo la provenienza, quindi chi garantirà l'affidabilità? Perché conoscendo il popolo della rete, io so molto bene che nel 2020 quando inizierà a girare questa spazzatura ci sarà un sacco di utenti veramente che lo utilizzeranno. Ecco, quindi noi non so nel 2020 l'Italia a che punto sarà, che a livello sarà a livello economico e sociale, ma però se andiamo avanti di questo passo stiamo andando veramente verso il baratro. Io personalmente spero proprio di non essere costretto a usare nessuna criptomoneta, anzi vi dico la verità, meno carte di credito si utilizzano, meno Bancomat, ma più contanti meglio è. Probabilmente verrà anche arrestato per queste mie affermazioni, ma questa è la verità ragazzi, è la verità perché noi non possiamo più andare avanti a essere considerati e essere consumisti. Noi dobbiamo cominciare a pensare al futuro di questo pianeta, ma non pensare alla Greta, il Greta pensiero, altro a mio avviso ciarpame che ci stanno proprio spalando addosso, non perché alcune diciamo, teorie assolutamente vere sul riscaldamento globale, sull'immondizia che produciamo non siano valide, ma sono le persone, a mio avviso inaccettabili, che propongono queste lotte, che sono assolutamente non si possono accettare. Quindi, stiamo lottando contro tutto, quello che potrebbe fare bene alla nostra società, ma andiamo dietro a questi personaggi come Zuckerberg che hanno fondato un impero economico, giustamente, fa parte del gioco, utilizzando probabilmente anche dei finanziamenti come qualcuno pensa che siano della CIA americana o comunque di agenzie americane poco chiare, perché Facebook è caduto anche nel tranello, anche nell'inganno della privacy, molti dati presenti sulla piattaforma Facebook sono state vendute ad aziende, quindi io personalmente non me la sento assolutamente di dare in mano l'economia globale a un personaggio come Zuckerberg, ma non perché Zuckerberg, perché se non permettiamo a uno stato sovrano come l'Italia di stampare dei propri titoli per risanare la nostra economia interna è assolutamente inaccettabile pensare che noi diamo in mano a 27 società con a capo cordata uno Zuckerberg di turno le chiavi della fine dell'economia mondiale, anzi della forse l'inizio del nuovo ordine mondiale, ricordate un unico stato un'unica religione e logicamente un'unica valuta. Da Stefano Becciolini questo è tutto e vi auguro una buona serata e mi raccomando approfondite la Libra di Facebook, approfondite e lasciate commenti e condividete questo mio editoriale che credo sia importante.